Il mio piatto preferito è la frisella o il pane con olio e pomodoro. Stop, that's it. Un po' di basilico, un po' di menta, quello che c'hai, perfetto. Ho cambiato da architetto a chef dopo dieci anni di libera professione come architetto perché effettivamente non era proprio la mia strada, non ero così contenta di andare in cantiere a incazzarmi con gli operai e invece sono contentissima di andare nei mercati rionali a fare la spesa o dai miei piccoli fornitori locali a comprare le cose che mi servono per realizzare i miei catering, i miei lavori di cucina. La cucina per me è stata un po' un essere libera dai condizionamenti che avevo avuto nel mio passato e quindi da non aver potuto far prima delle scelte e anche da alcune etichette perché comunque ero sempre la figlia di, sono stata per un periodo anche la moglie di e invece io volevo essere semplicemente Valentina con un mio percorso che mi sono costruita da sola sulla base appunto della mia passione e della mia voglia di cambiare e di essere soprattutto libera. Allora, la passione della cucina è nata da piccola nella cucina della nonna paterna a Taranto che sfornava dei pranzi domenicali meravigliosi, ho imparato a cucinare con lei, a fare i primi rudimenti di cucina e poi all'università stando da sola a Firenze quando studiavo architettura avevo la casa sempre piena di studenti e di amici e ogni sera mi mettevo, cucinavo, spignattavo e già all'epoca mi dicevano ma scusa ma perché devi fare l'architetto, ma fai la cuoca, apriti un ristorante e quindi è nata così. Sì, il rapporto tra cucina e televisione è stato sicuramente positivo perché ha avvicinato tantissima gente a anche una cucina di un livello un po' più, diciamo, complesso, un po' più alto. Secondo me il grande pregio è stato quello appunto di alzare anche il livello della gente che quindi è più esigente, magari conosce di più e nello stesso tempo ti stimola a fare meglio, no? Quindi come cuoco ad andare oltre. Allora, per chi vuole fare un percorso professionale come il mio conviene investire prima di tutto nella formazione. Io non ho avuto la possibilità di fare una scuola professionale di settore quindi per esempio in istituto alberghiero perché ho fatto altri percorsi formativi e quindi quella parte sicuramente un po' mi è mancata, ho cercato di recuperarla facendo tantissimi corsi, studiando tanto e investendo anche economicamente andando fuori, all'estero. Quindi sicuramente la formazione, la formazione è importante ma anche la possibilità di buttarsi anche in una cucina iniziando dal basso come ho fatto io che a 40 anni prendevo ordine da ragazzi che avevano la metà dei miei anni ma che avevano più esperienza. Quindi magari con umiltà però si imparano tantissime cose quindi questo è il consiglio che do a chi vuole approcciarsi a questo mestiere. Allora, la vita è un piatto da gustare o i piatti aiutano a gustare la vita? Giusto? Secondo me la seconda, cioè i piatti aiutano a gustare la vita perché una vita senza il cibo, senza le cose buone non può essere una bella vita. Grazie a tutti.